Qualche tempo fa, vedendo un gruppo di migranti spazzare le strade di Sassari dalle foglie, senza che neppure loro sapessero spiegare bene qual è il senso della loro prestazione, avevamo ipotizzato che si trattasse di una sorta di benevola provocazione. Neppure a noi piace stare senza far nulla, fateci fare qualcosa di utile per ricambiare la vostra ospitalità. Quanto sia diffuso questo sentimento fra gli ospiti delle strutture di accoglienza, lo dimostra il progetto di integrazione condiviso fra la cooperativa sociale che gestisce i centri, la SDP e l'assessorato alle politiche sociali del comune di Sassari, messo in atto nelle strutture di Casa Serena in via Pasubio. La titolare, Monica Spanedda, ha detto che i migranti si sono messi volontariamente e gratuitamente a disposizione in un lavoro impegnativo che li vede all'opera tutti i giorni al fianco degli ospiti della casa per anziani. Ripuliscono, sistemano il terreno del giardino, allevano nuove piantine e inoltre fanno piccole opere di manutenzione edile e di falegnameria a seconda delle loro competenze. Dalla costa d'Avorio, dal Senegal, dalla Nigeria o dalla Repubblica di Guinea, il sentimento comune è identico, la dignità dell'uomo si esprime nel lavoro e nell'utilità sociale. Gli otto giovani sono stati selezionati dalla cooperativa fatto sapere la SDP ma molti altri avrebbero voluto partecipare, una mano tesa anche verso chi non condivide le politiche di accoglienza dei migranti.